sostituzione infissi senza opere murarie ciao sono william bisacchi di infissi bisacchi dal 1973 ci occupiamo di infissi per abitazioni private con i sistemi bisacchi la sostituzione di infissi senza opere murarie di fatto è quella tipo di sostituzione consigliata a chi vive già all'interno della casa e non può spostarsi e quindi non può fare opere murarie invasive come l'installazione attraverso la smuratura del vecchio serramento e il muratore che monta appunto un nuovo controtelaio che è qualcosa che sconsiglio vivamente a chi abita quella casa a meno che uno proprio non abbia ne so due piani a disposizione magari può fare un piano piano primo prima e abita sotto e poi inverte la situazione in quel caso sarebbe sempre la soluzione migliore perché si riesce a ottenere le massime prestazioni di resa termiche acustiche ed estetiche però senza opere murarie si può comunque ottenere dei grandissimi risultati andando però togliere tutto quello che c'è di vecchio perché infatti montare un nuovo serramento su quello vecchio stringendo la luce e facendo dei coprifili orribili e fissando una roba nuova sopra una roba vecchia non è una grandissima soluzione purtroppo è una soluzione che utilizzata nella maggior parte dei seramentisti dei rivenditori dei showroom perché è una soluzione economica facile e che la può posare chiunque perché fatta è molto semplice montare un serramento sopra uno vecchio sono convinto anche se non ti conosco che se ti dessi un avvitatore quattro viti e magari ahimè un giro di silicone saresti capace anche tu a fare un lavoro di questo tipo mentre togliere tutto quello che c'è di vecchio richiede delle competenze sia in fase progettuale iniziale quando si rileva le misure e quando si fa progetto di posa sia quando si va a posare se vuoi dei consigli in merito a quella soluzione migliore e se applicabile nel tuo caso in funzione anche delle dimensioni e al serramento che hai scelto per casa tua puoi valerti del servizio di consulenza con sistema visacchi ti potrò aiutare e senza conflitti di interessi perché questo servizio lo adotto solo con chi non può essere mio cliente per ragioni di tempo o di distanza ti potrò appunto aiutare a trovare soluzioni migliori nel tuo caso specifico e magari a trovare il preventivo migliore e smascherare quelle che non vanno bene se vuoi saperne di più vai su www.blogvisacchi.it e richiedi la tua consulenza ciao e al prossimo video iscriviti al nostro canale